Ciao a tutti, sono Pasquale Aprile e sono qui per presentare il mio nuovo singolo Ordinary Day, un brano che parla della mia giornata tipo e cerca di sfuggire o perlomeno non seguire delle linee guide ben precise, cercando di portare avanti la propria idea, la propria voglia di fare musica, lo potete trovare su tutte le piattaforme digitale, accompagnate da un videoclip che rappresenta pieno il senso del brano, questa canzone anticipa vari singoli che usciranno successivamente e che verranno poi racchiusi in un album, perciò facciamo questo viaggio insieme, seguitemi e ascoltate Ordinary Day, un saluto da Pasquale Aprile, ciao ciao! Grazie a tutti